Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Mr. Mario e oggi siamo qui su My Singing Monsters me l'avete chiesto, infatti sono usciti di nuovo gli epici, solo però quelli a tre energie allora, dato che il briciolino epico ci avevo portato un video a parte, ve lo lascio in descrizione il T-Rox invece l'avevo bridato quando avevo provato a bridare tutti gli epici dell'isola delle piante e anche questo lo trovate in descrizione quindi oggi proveremo a bridare il colpo di pugni epico ok, andiamo ad accendere tutte le torce grazie a chi mi le ha accese ok ragazzi, ora vi darò la combinazione, allora per creare il colpo di pugni epico la combinazione è Bogart e Wana adesso io uso i rari perché ho solo i rari di questi però funziona anche con quelli normali, anzi dovrebbe essere fatto con quelli normali ci vorranno vari tentativi ragazzi perché non funziona subito ovviamente, però con le torce accese c'è molta più probabilità c'è da usare il Bogart e il Wana eccolo qua, andiamo no no no, io ho paura che non sia lui ho un po' paura che non sia lui è lui, è lui ragazzi il colpo di pugni epico 23 ore e 15 minuti è lui, lo andiamo ad accelerare subito ed eccolo qui, colpo di pugni epico è uscito, incredibile purtroppo è giunto il momento di salutare il colpo di pugni ed eccolo qui, colpo di pugni epico lo andiamo a mettere proprio mettiamo la griglia perché noi siamo abbastanza precisini come dire qui no, sì, no qua ecco ecco qui ragazzi, posizionato perfettamente ed ecco qui il colpo di pugna epico proveremo a broidare anche un altro mostro sempre in questa isola non fa parte di questi ma sto parlando del good job eccolo qui allora la combinazione è T-Rox più colpo di pugni sempre a lui, sempre a lui colpo di pugni è al centro di questo video oggi proviamo non credo sia uscito acceleriamo infatti è uscito quello normale il problema è che è una combinazione molto dispendiosa questa purtroppo non ci credo è uscito al secondo tentativo è uscito al secondo tentativo ragazzi è lui è lui è lui ragazzi good job allevato incredibile incredibile ragazzi al secondo tentativo visto che ormai mi è rimasto poco spazio 80 su 90 andremo a trasferire prima ghost busted dobbiamo teletrasportarlo nell'isola eterea dobbiamo dare un saluto infatti eccolo qui nell'isola e come avete capito il good job lo andiamo a mettere al posto del ghost busted eccolo qui proprio in mezzo all'isola e va bene va bene così livelli 24 incredibile e vabbè lo andiamo a portare al livello 4 ovviamente lo chiameremo trichecone e andiamo ad aggiungere alla collezione un altro mostro eccolo qui ciò che avevo in programma era di andare a provare a abritare nell'isola dell'aria il pom pom è epico ma mi sembra abbastanza improbabile ora però ci si può provare ci si può provare niente ragazzi abbiamo fallito la nostra missione quindi ragazzi a breve uscirà un altro video in cui vi darò tutti i bridge se no senza poterli fare purtroppo però quindi ragazzi questo video è terminato se vi è stato utile se vi è piaciuto lasciate un like qua sotto commentate iscrivetevi e noi ci rivediamo alla prossima ciao ragazzi ciao